... fate voi se devono venire quattro pattuglie della polizia da questo coglione è questo eccola qua questa Aspettegli cazzo, questo qua è quello che succede a casa mia tutti i giorni, sta roba tutti i giorni, tutti i giorni su tutti i giorni è questa scena, tutti i giorni, tutte queste cose qua, tutti i giorni siamo esasperati, continua a chiamare la polizia, sua moglie, lui, sempre lui, la Mercedes, questo qua abita lì, è sempre di tutti i giorni, spacchi coglioni, queste sono le scene che vediamo tutti i giorni, se siamo esasperati nessuno fa un cazzo, questo è il cazzo.